Rivoluzione nel calcio. La sentenza shock dopo 24 anni. Scudetto Lazio revocato e restituito alla Juventus. Dopo 24 anni di attesa è finalmente giunta una sentenza che potrebbe riscrivere la storia del calcio italiano. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Secondo le ultime notizie, la Juventus non avrebbe dovuto affrontare la partita contro il Perugia nel 2000 e ci sarebbe un clamoroso scudetto da revocare alla Lazio per restituirlo ai bianconeri. La questione solleva interrogativi e polemiche che fanno tremare i fondamenti del calcio nostrano. Le dichiarazioni scioccanti di Melli, ex giocatore del Perugia, hanno riacceso il dibattito. Ha rivelato che negli spogliatoi provammo a metterci d'accordo con la Juventus per pareggiare, in modo che loro potessero disputare lo spareggio. Ma i campioni della Juventus, tra cui nomi illustri come Davids, Zidane e Montero, non accettarono questa proposta. Eravamo salvi e non avevamo nulla da chiedere, continua Melli, aggiungendo che il presidente Gauci, legato alla Lazio e al Banco di Roma, avrebbe offerto un premio alla squadra in cambio di una vittoria. Se avessimo perso, ci avrebbe portati in Cina in ritiro. Ma non finisce qui. Luciano Moggi, figura controversa del calcio italiano, ha commentato il campo di Bergamo prima della partita contro il Como, paragonandolo a quello di Perugia. Io su questa partita qui avrei da fare un'osservazione. Ho visto il campo ieri sera, il campo indubbiamente era bagnato, su questo non c'è dubbio, e il pallone stentava, però ribalzava, stentava ma ribalzava. Ho fatto riferimento a quando praticamente è stata portata avanti la partita. Chi è? A Perugia. Oh, ciao. Pensavo che fosse un di Garugia, ho pensato che fosse una voce dall'albera. Scusa. Pensavo che fosse il terzo film della sera, dopo aggiungere il posto agosto. No, ma comunque. No, ma ragione. Allora, io facendo un affronto tra i due campi, praticamente è ridicolo aver proseguito una partita dove si è battuto il record mondiale, 74 minuti tra un primo tempo e un secondo. Se io praticamente avessi voluto portare via la squadra, dopo 45 minuti la portavo via. Invece per non passare da arrogante ho lasciato perdere e abbiamo aspettato, abbiamo perso la partita. Dopodiché, dopodiché, il problema, sai che è successo? Hanno instaurato il processo praticamente di calciopoli su quella partita, perché se legge Auricchio, sai cosa ha detto Auricchio? Da quella partita la Juventus ha cominciato a parlare con le società di calcio, nella fattispecie il Perugia e con i giocatori del Perugia per vincere la partita che al Perugia non interessava e alla Juventus si è per vincere il campionato. La sostanza qual è? È che interviene un giocatore del Perugia a distanza e dice guardate che quando il presidente del Perugia disse vi mando in Cina se perdete, ha il ritiro. Noi ci siamo impauriti, siamo andati noi dai giocatori della Juventus e i giocatori della Juventus hanno detto no. Questa cosa l'hai già detta altre volte, io non me la ricordo o è la prima volta? No, no, è la prima volta perché è venuta riuscita. Ma è la prima volta che tu la dici? Scusa, non ti voglio strumentalizzare. Poi credo che abbiamo parlato prima in redazione di questa cosa qui. Non so se l'abbiamo trovata questa immagine, c'è un'immagine, una foto, non so se forse no, di quel campo. Eccola qua, questo è il campo del 14 maggio del 2000. Ragazzi, 74 minuti di verifica del campo. Ieri è bastato 5 minuti per stabilire in un campo che sicuramente era molto meglio di quello. Anzi, non c'era proprio confronto. Tu sai Luciano che... Questa incredibile vicenda di collusioni, interessi e minacce apre un vaso di Pandora che potrebbe avere ripercussioni ben oltre il campo perché alcune accuse di calciopoli cadono. La sentenza finale potrebbe riaccendere le tensioni tra tifoserie e club, rivelando una realtà più complessa e intrigante di quanto si possa immaginare. Ora, la domanda che tutti si pongono è cosa accadrà ora? La Juventus avrà finalmente giustizia o rimarrà tutto come prima? Perché la Juventus è stata indagata il Perugia, no? Scriveteci nei commenti le vostre opinioni e preparatevi per un dibattito acceso.